Volevo dire bella per il Love Me e per noi è veramente incredibile essere qui ed essere la quota RSA Rispetto, stile, articolo 31 di questo concerto ma oggi è successa una cosa incredibile tutti gli artisti che sono qui, che hanno suonato e che suoneranno, ci piacciono ma qui c'è anche il mio gruppo preferito allora io gli ho messo il like su Instagram ho fatto bene Chiara, gli ho messo il like su Instagram e loro mi hanno scritto zio ma noi siamo cresciuti con la tua roba e quindi ho detto vabbè ci vediamo dopo lì e loro mi hanno detto e no, però noi abbiamo suonato il pomeriggio poi dobbiamo lasciare al camerino allora io ho detto no voi siete il mio gruppo preferito entrate nel mio camerino e stasera suonerete con noi Milano, fammi un urlo per i Lasset! e allora Milano! ci siamo a Milano! loro mi dicevano di stare dritto e buono loro mi dicevano la fila cambia tono loro mi dicevano di non parlare con la bocca in piena e camminare dritto bene retto con la schiena di non andare fuori tema e seguire lo schema oppure andare all'altro senza scena di non creare il problema che non ne vale la pena di essere grato di essere ci siamo a Milano! e come? perfetto! su! su! perfetto! su! su! perfetto! come? perfetto come te Letizia! e manteniamo viva le tradizioni! Milano fammi vedere il dito meglio! io non so bene quando è cominciato ma tratti io non ho finito più chiara è come dici tu davvero non so che cosa ma ti ha rovinato ecco inizia a salire troppino forse è per questo che tu mi hai lasciato e non ci soffino più bene un po' ma mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto domani mi rispetto è meglio se mi chiami domani loro mi dicevano di stare sui finali loro mi dicevano rispetto a questi orari loro mi dicevano dai con i piedi a terra loro mi dicevano è giusta questa vera mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto domani mi rispetto ho anche lasciato sulla tavoletta del cesso domani mi rispetto e faccio troppi gatti senza avere il biglietto domani mi rispetto è meglio se mi chiami domani loro mi dicevano non calpestare l'erba loro mi dicevano non costruire l'erba loro mi dicevano ho anche vestito in porti e i miei capelli erano troppo lunghi e troppo corti e non metto il casco omologato non metto niente alla identità ho fatto il bagno e l'ho mangiato e sono ancora tutto bagnato mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto domani mi rispetto ho anche lasciato sulla tavoletta del cesso domani mi rispetto e faccio troppi gatti senza avere il biglietto domani mi rispetto è meglio se mi chiami domani un urlo per gli articolo 31 un urlo per la sed e bang posso dire una cosa raga questa roba è assurda cioè non è stata per niente programmata non l'abbiamo mai provata prima Jack si ha scritto stamattina ci ha chiesto di fare il pezzo e ti giuro è stato un onore c'è proprio no l'onore è nostro perché voi siete la prova voi siete la prova che noi siamo mortali ma il rock and roll non morirà mai voglio un casino gigante per gli articoli 3 1 2 3 grazie per l'onore grazie zio vi voglio bene raga a presto siamo i vostri padri illegittimi ma non siamo